minuscolo attento molto vivace dotato di notevole intelligenza e grande memoria queste sono in poche parole le caratteristiche principali del cane di razza chihuahua una delle razze di cane da compagnia più famose esistono varie storie leggende legate all'origine dei chihuahua il nome lo lega all'omonima regione situata nel nord del messico mentre si crede addirittura che questo cane fosse già presente all'epoca degli aztechi il cane più piccolo al mondo le dimensioni estremamente ridotte rendono il chihuahua la razza più piccola al mondo con un'altezza media che si aggira sui 20 centimetri e un peso che vada un chilo e mezzo ai tre chilogrammi proporzione però il suo fisico e robusto e compatto il pelo e generalmente di varie tonalità di colore corto ma possono esserci anche varietà pallo lungo il cranio e di forma rotonda ma proporzionato rispetto al corpo pur essendo un cane da compagnia ed appartamento molto apprezzato il chihuahua ha un carattere forte indipendente coraggioso ma anche la sua indole molto attiva legame con il proprio padrone e di norma molto stretto ma il proprio carattere testardo talvolta lo spinge a fare comunque di testa sua addestrare un chihuahua le esigenze di una famiglia e di una casa è molto semplice sia perché è una razza molto intelligente sia perché la sua adattabilità le situazioni lo rende un cane abbastanza facile da gestire come quasi tutte le razze di cane di piccola taglia però risente molto dell'eccitazione o del nervosismo che può manifestare con tremori evidenti del corpo e abbai incensanti infine un'annotazione importante per il padrone il chihuahua è un cane che ama esser viziato e ha una tendenza ad averla vinta ma il suo padrone non dovrebbe mai esagerare perché nonostante le piccole dimensioni leggo di questo piccolo cane potrebbe ingigantirsi a dismisura fino a far perdere ogni controllo al padrone grazie a tutti